Con noi qui a Mazzara del Vallo nel bellissimo teatro Garibaldi è l'avvocato Vella che è stato sindaco della città di Mazzara e quindi merita un'intervista ma ha fatto 50 anni di onorata professione e ha ricevuto persino un premio dal nostro Presidente della Repubblica e insomma tutto, non si è fatto mancare niente? Mazzarella mi ha voluto premiare appunto perché ho amministrato questa città con trasparenza e assoluta legalità senza avere quegli inconvenienti che altri sindaci ho governato due terremoto, il Belice senza la protezione civile l'onorificenza della Gran Croce è la massima onorificenza dell'Italia e questo mi anora e apprezzo molto il Presidente per questa gratitudine che più che a me ha dato alla città Cosa manca oggi a Mazzara del Vallo? ma deve pensare al futuro, fermarsi sul presente non rilancia quel ruolo europeo nel Mediterraneo che Mazzara ha sempre esercitato non soltanto nella pesca ma anche nella cultura mirando al dato nord dell'Europa ricordiamo che io nello statuto predisposto dall'attuale Vice Presidente della Camera abbiamo dato la presenza di un consigliere tunisino che aveva la facoltà di parlare ma non di votare perché ancora la Costituzione italiana lo vieta questa è Mazzara, deve avere creatività soprattutto pensando al Mediterraneo questo è stato il suo ruolo nel passato e deve avere anche oggi allora oggi ricordiamo qui la figura del grande magistrato oggi diventato anche beato Rosario Angelo Livatino in che modo possiamo ricordarlo onorando veramente la sua immagine? noi dobbiamo guardare ai valori del cristianesimo che sono anche nella nostra Costituzione e quindi un magistrato come è stato lui che è stato proclamato beato per la sua formazione che fin da piccolo ha avuto ha portato nel difficile ruolo di magistrato anche ai valori della cristianità nel vedere una persona soggetta di imputato che è un cristiano e quindi merita la massima attenzione umana e tutti i valori del Vangelo che aveva insito nella sua formazione rispettava in pieno le regole anche del diritto cioè noi condanniamo il reato non la persona io l'ho intravisto una volta andando per la mia attività di professione ad Agrigento era nella sua sala e quindi non dovevo per il problema che rappresentavo del cliente parlare con lui ma mi fece una grossa impressione perché uscendo sapevo che ero in Nazione Cattolica e lui era stato l'ho ammirato sempre e spero che mio figlio lo sa non dicono niente che oggi il procuratore aggiunto ad Agrigento possa pensare al suo ricordo nella sua attività difficile e impegnativa di magistrato il comune di Mazzara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro l'11 dicembre alle ore 16 presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Chira Ema e Marino alle ore 17.30 in piazza Mocarta l'installazione audiovisiva di Antonio D'Addio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine vi aspettiamo